Torna nell'ambito dei festeggiamenti di San Vito il salotto di Diderot, voluto lo scorso anno dall'assessore alla cultura Sara Rubinelli. Quattro gli appuntamenti, tutti su prenotazione e di fatto quasi esauriti, a fare da cornice la splendida piazza Don Andrea Beltrami, ufficialmente inaugurata nella giornata di ieri. Il primo è nel calendario giovedì 27 e la tematica sarà quella della cura dell'essere nel tempo dell'apparire, con la partecipazione di Don Gianmario Lanfranchini e della lama Michelle Tucuri, in poche monaco buddista, nei centri di Milano e BE. Il giorno seguente spazio ad un tema davvero attuale, virus e pandemie tra numeri ed esseri umani. Alla tavola rotonda prenderanno parte il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, il professor Antonio Piralla, specialista in microbiologia e virologia, il professor Roberto Malacrida, direttore di Castello Educazione e Cultura di Bellinzona ed il dottor Vincenzo Mondino, primario di malattie infettive tropicali presso l'asle del VCO. Tra gli ospiti anche il sinneco di Omenia Paolo Marchioni ed il professor Riccardo Milan, che racconterà la sua esperienza personale da marato di coronavirus. Questo incontro sarà proposto in diretta sul sito internet www.vcoazzuratv.it dalle 17 e sulla nostra pagina Facebook, riproposto anche integralmente indifferita sulla nostra emittente in seguito. Sabato pomeriggio il terzo appuntamento è dedicato ad un incontro dal titolo Il mondo del lavoro a dimensione donna, a condurlo la giornalista della stampa Cristina Pastore. Le sue interlocutrici saranno proprio l'assessore Rubinelli, la professoressa Carolina Pellegrini e la dottoressa Elisabetta Toromellini. Quarto ed ultimo appuntamento, domenica 30 agosto, con Simone Fornara del Dipartimento Formazione ed Apprendimento della Scuola Universitaria della Svizzera Italiana e con Maddalena Fiordelli, docente e ricercatrice. Il valore delle parole contro la fretta del troppo parlare, il tema dell'incontro conclusivo.